Frigerio Viaggi Network Friends è rivolto ad agenzie di viaggi già sul mercato, quindi colleghi che hanno esperienza, che hanno superato momenti non facili, che hanno individuato nuove idee di business, che hanno un rapporto con i propri clienti particolarmente produttivo. Noi facciamo lo stesso, quindi vogliamo unire le forze di due realtà, una rete di agenzie di viaggi consolidata come Frigerio Viaggi Network e nuove agenzie di viaggi che vogliono trovare in noi dei partner affidabili e utili per fare business, perché a fondo di tutto c'è questo, aumentare il numero di clienti che entrano in agenzia e fare in modo che questi clienti comprino più viaggi e viaggi più costosi. Cosa mette a disposizione Frigerio Viaggi Network Friends alle proprie agenzie? Una piattaforma tecnologica evoluta, un sito che è tra i più aggiornati in Italia, un orientamento verso il web 2.0 molto marcato, siamo pronti ad agire su piattaforme come Flickr, YouTube, il canale dal quale vi parlo in questo momento, Facebook, Twitter e altre e soprattutto un'affidiabilità, un'esperienza che si realizza con un'assistenza. Qualunque problema tu collega abbia con un operatore crocerista lavorando col porto di Bari o con un tour operator che fa partire un charter da Verona, noi abbiamo la possibilità di supportarti, di aiutarti e di dirti come risolvere la questione. Frigerio Viaggi è presente sul mercato da molti anni, la sua linea di business è molto variegata, abbiamo una divisione trasporti, una divisione viaggi delle filiali e una rete di agenzie di viaggi affiliate, siamo presenti sul mercato da 11 anni come rete di agenzie e pensiamo di poter condividere quindi con chiunque creda nei nostri stessi valori un percorso comune. Legarsi a noi vuole dire rimanere indipendenti, fare le proprie attività, continuare a crescere insieme, ma comunque avere qualcuno più bravo, meno bravo, più esperto o meno esperto, ma un collega che fa lo stesso mestiere e lo fa sulla base di esperienze e di prodotti che sono stati testati con successo dal mercato. Rivolgiti a noi, trovi i nostri riferimenti, mail e sito dopo questo video, ti aspettiamo, siamo sicuri che lavorare insieme vuole dire avere più denaro, avere più clienti e fare più business. Grazie.